Senti, vaffanculo, ok? Quella è la mia battuta intanto. Stai zitto. Stai zitto tu, stronzo. Nessuno ti ha. Viene bambini, poveri. Allora, non mi ricordo più il piano, forse... E infatti... Cazzo... Eh vabbè, tanto Pikachu non mi serve per dare. Dov'è che devo andare? A lavandoni, è vero. Chi è che si chiamava? Ah, non l'ho beccato. Eccans... Uomo. Io vado a... A giocare alle Creepypasta, a lavandoni, ciao. No, no, il Raichu di Gary, no. Che cosa stai dicendo? Perché era Raticate? Perché ho detto Raichu? Ma vabbè, non mi ricordo più il Pokémon nella gente. Ascolta, sono le 10.20, neanche... Chissà che ora. È la vita. Ci ho capito, ma non puoi confondermi Raichu con Raticate. Quanto è forte, Giovanni, eh? Eh? Devo usare qualcosa, tipo un Elix Fossile. Watergun. Cosa? Ma mi sa che esso muoio, però. Toh, insegno Watergun a... Cosa? Al posto di... No, non gli imparo niente. No? Sì. Con schifo. TM01 cos'è? Mega pugno, va bene. Lo insegniamo a uomo. Al posto di... 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 Di Elir. Ti ricordi qua la statistica speciale di Ghastly quanto fosse alta? Sì. Se effettivamente gli fosse servito qualcosa averla. Visto che vorrei ricordare... Ah, già, spettro era fisico. Ok, c'era l'ultimo coglione da tirare fuori e adesso possiamo andarcela a fare in culo. Yeee, che bello. Tutti all'avandonie. Sono già più avanti. Hai già sfilato Gary. Grazie, noi... Wow, che fuori. Ma aspetta, io ce l'ho l'acqua. Ah, non me l'ha presa perché non avevo lo spazio. Aspetta che... Ma figurati... Ma figurati se te lo dice. No. Depositiamo tutti gli strumenti, porca puttana. Tutto! Via! Via! A parte le pozioni. Magari mi servono. Vabbè, Dio teoricamente è un vampiro. Non morto. Sì, ho capito. Allora, vabbè, vai cagare, ok? Scusami, sto giocando troppo a Dark Souls ultimamente. Si nota poco. Mio Dio, le mie retine! Hai visto Gloom, vero? No, il giallo di Zafferanopoli. Oh no, sto impazzendo. Ma sai cosa? Mi sa che quei bambini non erano morti per l'abandonia. No, per le crisi epilettiche di Zafferanopoli. Oh, che bello che è, Hunter. Basta, mi sono dimenticato di comprare i repellenti. Ma sono stupido. Cioè, in realtà li stavo pure comprando. Mi sono detto, no, non comprarli, brutto rincoglionito. Giusto, vado al dojo. Minchia al dojo. Ecco che posso prendere. Qualcosa mi prendo Hitmon lì? Mi prendo Hitmon top, allora. Ehi, Hitmon, c'è un spazio. Oh, volevi. Vattene. Vu... Ok, scusami. Hai un pessimismo veramente pari a quello... Al mio! Ehi! Ma porca puttana! Ogni volta che fanno leccata, paralizzano sempre! Cosa cazzo ha di sbagliato WarTotl? Vattene via! Se sono riuscito a beccarmi Gastly, entrando nella zona purificata. Cosa? Va bene, gioco. Oblasto è buono. Ma tua nonna usa Confuse Ray. Basta, vai via. Ho trovato un Cubone. Quasi me lo catturo. Ah, non ho le Pokeball. Sono stupido. Vai via. Ho trovato l'Anti-Zubat. Gino lì one-shotta con Slash. Ok. Basta! Ma già, è vero che... Sono abituato a Rossofuoco qui, che c'è tutta la gente. Vai di Slash. Intanto critta sempre, perché qui... Il critical rate è... La velocità. Ti ricordi a che piano fosse la stanza giusta? La stanza giusta? Sì, per la priporta. Non mi ricordo mai. Stai già facendo la Silpho? Beh, battuto il Dojo non puoi far altro, eh. La palestra è bloccata. Hai anche ragione. Devi capire che loro hanno la palestra e la palestra palestra. Che è meno palestra della palestra. Benché... Oddio Primate. Ora devo ricordarmi il piano. Giusto. Attenzione! Partono gli assoli... Di... 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 Di Slash. Sweet child of mine, mother fucker. Paco, ho un... Drago obeso. Hai già Charizard. Sì. Tu hai mica Blastoise. Quindi, vaffanculo. Eh, io fra poco avrò anche io Charizard. Aspetta che devo allenare Venusaur. Cioè Venusaur. Ivysaur. Che forse è il migliore dei tre, veramente, nella prima generazione. Anzi, senza forse è il migliore dei tre. Non dirlo che... Eh, ma Blastoise è brutto. Eh, anche la tua faccia è brutta. Però non te lo vengo a dire. Eh, vabbè, vabbè. Ivysaur al livello in cui impari... Eh, come si chiama? Non sono dimenticato. Voglia lama. Forse ci sono. Yes! Come è che l'avevo chiamato per il rivale? Ah, ah. Senti, vaffanculo. Vaffan... Eh, vabbè. Ah, già, è vero che qua Crittano se... Aia. Aia! Adesso vi faccio vedere una magia. Tada! Oh, Razor Leaf. Eccolo qua. Le decine. La imparava al 30. Ops! Non ho usato revitalizzante ma caramella rara per riportarlo in vita. Io sto finendo le superpozioni. Non ho voglia di spendere soldi. Io sono... Sono povero. Allora... Eh, tu sei un coso brutto. Ma quel naso! Quel naso! Ma è vero che... Ma perché? Eh, sì, dove voglio andare. Io dico solo... Che odio questo gioco perché... Gli speciali includono tutto. Ma... Ma... Chi è questo? Un giocoliere! Ma dove vai? Ma cosa fa? Cosa continua a cambiare Pokémon che tanto fa schifo uguale? Vabbè, almeno ci prova, a differenza tua. Ma che cazzo ne ha voglia di provare? Ok. Ci sono degli appunti che non ho voglia di leggere. Mi ricorda molto la mia vita universitaria. E adesso... Adesso non fate più paura a nessuno, eh, puttane. Eccolo qua, l'apri porta. Deficiente che non sono altro. Allora. Non ho voglia di stare qui ad esplorare perché mi sono già rotto il cazzo di sto gioco. Com'è? Com'è? Muoviti il culo! Allora. Adesso noi cosa facciamo? Apriamo qualsiasi porta. Vediamo. Allora, il giusto legale dovrebbe essere il secondo o il terzo. L'apri porta. No, ho sbagliato. Eccolo! Vingo! Hai ragione. Allora, devo tornare indietro, però non in questo piano. Questo era giusto. Porco... Poi io ti vado in bagno, intanto vi lascio l'immagine di... Che ne so, apro paint. E vi lascio l'immagine di un... Un avon. Ma casissimo. Tipo, aspetta, devo disegnarlo. Il cadavro lo sistemiamo con lui. Jolton, ciao! Ciao! Allora, adesso facciamo un bel avon, così. Allora... Proprio con paint. Tanto io ho quasi finito, eh. Non pensare. Sì, ma con paint proprio. Paco, non andare a far... Ti le... Sì. Ah, già, ci sono sti poveri idioti. E te pareva. Arvok... Arvok... Guardato. Vai via. Nido, quindi, devo per forza farlo fuori col Signor. Aio. E abbiamo anche Blastoio. Ciao, vi lascio con un abone e vado in bagno. Ciao. E invece vi saluto proprio. Anche perché ci sto parlando con un abone. E per la vita di un abone. Anche perché c'è stato un abone, che è quello che ha fatto. E poi mi sta Regardless. E poi la cosa... E poi mi... Ma io ho avuto con un abone e vedere. E poi la cosa che ha fatto. Grazie a tutti